BIT 2019 Milano, sono qui con il signor Remo di Giandomenico allo stand del Molise, che è uno stand fantastico. Adesso lui ci racconta la storia e il significato di questo stand che rappresenta a pieno la regione Molise. Il ragionamento è molto semplice, il racconto è molto semplice. In un'epoca in cui siamo nella ipertecnologia vogliamo ricordare, vogliamo dire che la tecnologia deve essere al servizio della natura e non la natura ha servito la tecnologia. Per cui la natura va valorizzata, vista in tutti i suoi aspetti e noi abbiamo questa situazione veramente ottimale di avere un territorio in cui vi è paesaggio, vi è mare, vi è montagna, vi è verde, vi sono pascoli, vi sono piccole realtà dove tu vieni accolto come una persona di casa, e quindi la convivialità e abbiamo la protezione di quattro figure femminili che sono la venere, che sono la sirena, l'annunciazione e la dea della terra mefite che sono le quattro protettrici del Molise. Un stand al verde con la protezione di quattro donne. Benissimo, allora c'è sempre la battuta che il Molise non esiste, in realtà esiste ed è bellissimo, è giusto, invitiamo gli italiani e i turisti a scoprire questa regione. Indoppiamente sì, poi dire non esiste quando i molisani stanno in tutto il mondo, quindi tutto il mondo ci conosce. Quindi questo stand rappresenta il Molise e noi vi invitiamo a venire. Grazie, benvenuti in Molise.